capitolo terzo de il ritratto del diavolo questa registrazione libri vox è di pubblico dominio il ritratto del diavolo di anton giulio barrili capitolo terzo abbiano la mala pasqua i pessimisti gli scettici ed altri filosofi di tal fatta i quali sostengono che l'uomo sia un animale invidioso per natura e che le nostre buone qualità sieno solamente effetto di paziente educazione come a dire di strofinamento e di verniciatura grazie al cielo e con licenza dei filosofi sullodati ci sono ancora delle anime intimamente buone la cui virtù è frutto di generazione spontanea non già conseguenza di innesto sapiente o d'arte giudiziosamente educatrice e ci sono altresì degli uomini che non soffrono il male dell'invidia neanche e questo è meritorio da parte loro quando vedono che tizio o caio ha ingegno o attitudine da superarli di gran lunga in questa o in quella disciplina vedete ad esempio il nostro bravo messer Iacopo di Casentino il vecchio scolaro di Taddeo Gaddi il degno continuatore della tradizione di giotto indovinava facilmente che quel giovinottino da lui preso a bottega quando avesse fatto un tantino di pratica nel maneggio dei pennelli sarebbe diventato di schianto un artista in signe un maestro da lasciarsi addietro i migliori del suo tempo e per lui per quell'aquilotto che metteva appena i bordoni mastro Iacopo aveva smosso il suo piglio burbero per lui trovava le parole amorevoli la placida assiduità degli insegnamenti la ineffabile tenerezza dei conforti paterni due sentimenti diversi lo persuadevano a ciò il primo era quello dell'ambizione essere maestro ad un discepolo che non aveva appunto mestieri di rimproveri e così poco di incitamenti a far meglio poter raccomandare il suo nome ad un nuovo argomento di gloria eccovi l'ambizione di mastro Iacopo ambizione legittima e quel che più monta di effetto sicuro si sarebbe detto un giorno spinello spinelli il famoso pittore d'arezzo era scolaro di Iacopo da casentino degno del maestro il discepolo e seppure si fosse dovuto dire migliore del maestro la gran pezza sarebbe stato poi un gran male avere indovinato un ingegno potente averlo tratto dall'oscurità avergli per così dire adattate le ali agli omeri non è forse una gloria un titolo di merito al cospetto dei posteri specie quando un simil titolo si può metter di costa ad altri parecchi ora che mastro Iacopo di casentino non si ingannasse in questi suoi sogni ambiziosi la storia dell'arte italiana lo ha dimostrato la fama di spinello aretino ha confermata se non per avventura è cresciuta la fama del suo vecchio maestro l'altro sentimento era d'indole affatto domestica gli do mia figlia diceva tra sé mastro Iacopo bello lui come se è bella ha ingegno salirà presto in eccellenza d'arte avrò in lui un aiuto maraviglioso prospererà la mia scuola Arezzo contenderà la palma a Firenze è qui mastro spinello ma via non precipitiamo nulla raccontiamo le cose per filo e per segno non mettiamo il carro avanti ai buoi madonna fiordalisa ve l'ho già detto si dimostrava umana col nuovo discepolo di suo padre più volte nel corso della settimana o con un pretesto o con l'altro spinello spinelli era invitato a desinare dal maestro onore che toccava di rado agli altri compagni suoi di bottega qualche volta anche lei discendeva al pian terreno e certamente più spesso che non le accadesse da prima ora per avvertire il babbo che si dava in tavola ora per chiedergli il suo parere su questo su quel particolare d'economia domestica ed ha anche perché bisogna dir tutto anche senza una ragione sufficiente per scendere ma già deve trovarla sempre per ogni cosa la ragion sufficiente i filosofi che hanno voluto metterla come fondamento dei loro sistemi si sono trovati anch'esse il più delle volte impacciati e spinello ardeva e l'interno dolore gli traluceva dagli occhi voi lo sapete lettori perché di lì ci sarete passati un giorno anche voi l'amore e la tosse si nascondono male anche madonna fiordalisa nascondeva male il senso che faceva su lei l'amore di spinello spinelli anzi non lo nascondeva affatto perché avrebbe dovuto nasconderlo non era nato quell'affetto e non cresceva forse liberamente sotto lo sguardo benevolo di suo padre era da principio un po' timida poi nel ravvisare lo stato del proprio cuore si era fatta contegnosa ma queste deboli difese pari alle fortificazioni improvvisate lì per lì da un esercito in aperta campagna durano appena quel tanto che basti ad una semplice ricognizione e madonna fiordalisa non aveva durato fatica a riconoscere che quel gentile e modesto innamorato non era altrimenti un ingannatore si sentì raffidata e gli diede senza contrasto il suo cuore dolce abbandono che non è turbato da nessun sospetto da nessuna paura mentre faceva quei progressi nel cuore di lei e forse per la stessa ragione che li faceva il nostro spinello avanzava rapidamente nella disciplina che aveva con tanto ardore abbracciata imparava facilmente quel che oggi si chiama il meccanismo dell'arte sapeva come si dovessero unire i colori a fresco e a tempera o come si avessero a dipingere le carni e i panni per modo che ne venisse rilievo e forza alle figure mostrando l'opera chiara ed aperta conosceva quali colori si dovessero usare nel dipingere a fresco cioè tutti di terra e non di miniere con che risolutezza di mano si avesse a condurre il lavoro prima che l'intonaco del muro potesse disseccarsi e qual forza dovesse dare al colore perché le tinte mentre che il muro è molle mostrano una cosa in un modo che poi secco il muro non è più quella di prima ed altre cose aveva prontamente imparate con potenza di desiderio anziché per pratica del dipingere a tempera cioè col rosso dell'uovo e col latte del fico mescolati nei colori del dipingere a chiaroscuro contraffacendo le cose di bronzo e finalmente del fare gli sgraffiti sulle mura per modo che reggessero all'acqua piovana e tutto ciò senza rifarsi pure una volta ai principi tirato dalla sua inclinazione a schizzare dal vivo o altrimenti dal naturale Spinello Spinelli era già andato molto innanzi nel disegno esprimendo col lapis rosso di Lamagna o col nero di Francia figure e atteggiamenti partiti di pieghe o d'altro che gli toccasse l'animo così lavorando aveva acquistato una maravigliosa destrezza a fare con la penna i dintorni delle cose vedute dando le velature e le ombre con una tinta dolce che otteneva dall'inchiostro stemperato nell'acqua e da ultimo come abbiamo veduto dai disegni suoi che erano andati sotto gli occhi di Mastro Jacopo faceva ogni cosa a tratti di penna lasciando che i lumi delle figure fossero resi dal bianco della carta del resto in quei cominciamenti della pittura mancavano i grandi esemplari da proporre ai discepoli e ognuno ritraeva dal vero portando nell'opera quei medesimi difetti e qualità che erano nell'occhio di Ciascheduno e nel suo modo particolare di veder la natura che se a voi lettori discreti paresse strano il caso di tanti pittori i quali vedevano la figura umana più smilza del naturale di guisa che nei dipinti di quel secolo non si scorge ombra di quella pienezza di forme che è tanto comune in natura io vi pregherò di ricordare che quei bravi rinnovatori dell'arte escivano allora dagli stecchi della pittura bisantina e per vedere tutto il vero nel vero dovette mancar loro il coraggio natura non facit saltum si è detto anche l'arte ha dovuto andare per gradi per contro se i pittori della scuola di Giotto davano ancora troppo nello smilzo avevano già la cura lodevole del finito la onde se i corpi delle loro figure asciutti come sono accusano la povertà degli studi anatomici la espressione dei volti e la diligenza nel disegnare le estremità ci appalesano quel sentimento profondo della verità che doveva rifare di sana pianta le arti figurative e non far rimpiangere al mondo la perdita dei capolavori di Apelle e di Zeusi ho detto e ritorno a Spinello Spinelli e il quale vedendo operare Mastro Jacopo di Casentino si è cese del desiderio di dipingere a fresco che era in quei tempi il sommo dell'arte ma tacque il suo pensiero che gli pareva troppo audace anzi temerario senz'altro e si restrinse ad osservare il modo con cui Mastro Jacopo preparava i cartoni ringrandendo a vaste proporzioni i suoi disegni e qualche volta ad ottenere i giusti effetti di luce ed ombra facendo modelli di creta i quali disposti in una data azione tra loro lasciavano vedere gli sbattimenti i rilievi e tutte le altre particolarità di cui si vantaggia la prospettiva di un quadro tre mesi erano scorsi da che Spinello viveva al fianco di Mastro Jacopo e il giovinotto a malapena ventenne aiutava già il principale negli affreschi del Duomo Vecchio di quel Duomo in cui per la prima volta aveva veduto Madonna Fiordalisa si intende che Spinello tratteggiava sull'intonaco i disegni del maestro e sotto gli occhi di lui ci metteva il colore immaginate voi come si struggessero di rabbia i compagni di Spinello escludiamo peraltro il povero Parri della Quercia modesto e buongiovane il quale non si sentiva nato per la grand'arte dell'affresco e si contentava di lavorare a tempera certi trittici e pale d'altare che erano commesse a Mastro Jacopo da qualche pieve o da qualche oratorio del contado l'affresco voleva ardimento di ingegno franchezza di mano sicurezza di giudizio e tante altre belle qualità che non erano nell'indole di Parri ma gli altri discepoli di Mastro Jacopo assai meno valenti di Parri della Quercia erano anche assai meno modesti di lui e si rodevano di vedere quel nuovo venuto che si spingeva in brevora tanto innanzi nel magistero dell'arte e quel che era peggio nelle grazie del maestro un giorno essendo Spinello a lavorare sulle impalcature del Duomo in compagnia di Mastro Jacopo questo gli disse di punto in bianco ragazzo mio è tempo che tu voli da te volare da me esclamò il giovane levando gli occhi dal muro per guardare il maestro che intendete di dire? mi sembra di parlar chiaro ripigliò Mastro Jacopo il tuo ingegno ha messe le penne maestre puoi volare senza aiuto di chi che sia Spinello si fece rosso chinò la fronte e rispose maestro al fianco vostro ho un cuor da leone ma da solo ci pensate voi non mi avverrà egli di fare come quel licaro di creta che perse le penne e andò a sommergersi in mare vedete la modestia che è andata a stare ad uscio e bottega coi giovani gridò Mastro Jacopo ridendo ma sia pur giusto il paragone che tu fai delle tue ali con quelle d'icaro nessuno ti dice che tu abbia a discostarti dal tuo maestro dal tuo secondo padre lavorerai sotto i miei occhi se Dio vuole e baderai sempre ai miei consigli hai risolutezza di mano e buon giudizio per fare da te vuoi? c'è da dipingere nella cappella qui presso un miracolo di San Donato l'opera è di grande rilievo perché il santo è qui in casa sua ma ho fede che te la caverai con onore maestro e se mi fallisse la prova vorranno poi i massari della chiesa commettere a me un'opera di tanta importanza non lo sapranno che poi rispose Mastro Jacopo dando un'alzata di spalle e noi cancelleremo il dipinto se non riescirà secondo le speranze che io ho concepite di te Spinello tuttavia esitava bell'ardire esclamò Mastro Jacopo così ami tu Fiordalisa all'udire quelle parole Spinello si scosse e il cuore gli diede un balzo nel petto figuratevi era la prima volta che Mastro Jacopo gli parlava di sua figlia e per la prima volta ne diceva abbastanza non vi pare? ah maestro maestro che dite voi mai gridò il giovine turbato ho io bene inteso Mastro Jacopo sorrise come sanno sorridere i babbi quando non hanno nulla da rifiutarvi o giovinotti innamorati se ho bene inteso io fin dal primo giorno che sei entrato a bottega rispose allora il vecchio pittore sì certamente tu mi hai bene inteso quest'oggi Spinello Spinelli rimase lì pallido dalla commozione ansante con gli occhi imbambolati non poteva credere alla propria felicità guardava il maestro come se volesse leggere nel volto di lui la conferma delle parole udite poi guardava in aria come se cercasse un'immagine cara che doveva trovarsi là pronta alle sue invocazioni amorose or bene che hai disse Mastro Jacopo non sei contento Spinello si abbandonò sui gradini del trespolo che serviva a Mastro Jacopo per accostarsi alla volta e diede in uno scoppio di pianto animo via che cos'è questa ragazzata borbottò Mastro Jacopo se ti sentono di laggiù ah lasciatemi piangere maestro padre mio lasciatemi piangere avere amato tanto tempo senza speranza essere entrato da voi temendo che non mi accettaste come vostro scolaro poi essere vissuto così accanto a voi disperando di potervi dire un giorno di potervi confessare e sempre con la paura di sentirmi annunziare da voi o da altri di bottega che Madonna Fiordalisa era sposa oh maestro maestro vorrei che ci foste stato voi nel mio caso eh non dubitare ci sono stato anch'io in diebus illis rispose Mastro Jacopo ci si passa tutti o presto o tardi per queste benedette ansietà ma come vedi non era il caso di tremare si pensava a te mentre tu ti guastavi il sangue coi sospetti e con le paure e c'è voluto che la fortuna venisse a cercarti lei che il babbo fosse il primo a parlare oh padre mio non dite ciò ve ne prego sapete pure che non ardivo già tu non ardisci mai ma bada ragazzo mio la tua fortuna è a questo patto tu farai il miracolo di San Donato e sarà davvero un miracolo interruppe Spinello ve lo prometto ci fu assegnamento ed ora andiamo a casa che qui si è fatto abbastanza per oggi no maestro lasciatemi qui voglio pensare al mio soggetto qui a cinquanta palmi da terra che importa la mia testa è più alta di mille miglia non sono io al settimo cielo poi vedete maestro qui siamo nel Duomo Vecchio laggiù continuò Spinello accennando in basso attraverso le commessure del ponte laggiù presso la quarta colonna di destra ho veduto per la prima volta Madonna Fiordaliso non sapevo chi fosse ma ne rimasi colpito andai quel giorno a nascondermi là dietro quel pilastro della navata di destra per poterla vedere di profilo senza che ella si accorgesse di nulla che allegrezza fu quella per i miei occhi e ogni festa sapete ogni festa io la vedevo così eravamo nel giugno dell'anno scorso benedetto mese che ne ha tante di feste gli altri ne hanno meno o non lo valgono l'aspettavo all'ingresso avendo l'aria di guardare tutt'altro poi me ne venivo laggiù anzi ricordo che fu quello un gran dolore per me sentiamo quest'altra esclamò mastro Jacopo ridendo sì riprese Spinello perché tutti i giovani d'Arezzo la conoscevano come la bellissima tra le belle ahimè pensai quanti non si augureranno di piacerle al pare di me e quanti non avranno ragione a sperare di essere più fortunati temevo e il soverchio della paura fu quello che mi diede le forze per muovere incontro a voi tremavo come una foglia ve ne ricordate e quando poi nella furia commisi l'errore di portarvi tutti i miei disegni senza pensare lì per lì che ce n'era uno già il ritratto della mia figliuola disse mastro Jacopo oh l'ho veduto e riconosciuto alla bella prima non dubitare come avrei capito il resto se non avessi indovinato il principio peraltro bada ragazzo mio lasciando passare la faccenda del ritratto io mi ero proposto una certa cosa quale se questo ragazzo mi si svia continuò mastro Jacopo se non mi diventa un gran pittore lo mando diritto a quel paese fortuna per te che ti sei conservato un buon figliolo ed hai risposto alla mia fede dunque siamo intesi il miracolo sarà fatto non temete sarà fatto lasciatemi qui nel duomo a prendere ispirazioni dal luogo mi sento una forza dal leone ma ditemi maestro il miracolo di San Donato non è di aver fatto morire un serpente che infestava il paese già è una semplice benedizione andate dunque maestro io penso al soggetto e spero che prima di escire dal duomo mi sarà venuta un'idea Mastro Jacopo sorrise una seconda volta fece a Spinello un cenno amorevole con la mano e se ne andò giù per la scala a più oli rimasto solo sull'impalcatura Spinello Spinelli prese il lapis rosso di la magna e incominciò a segnare alcuni tratti sul cartone ma subito dopo si fermò aveva il cervello in volta pensava a Madonna Fiordalisa e alla possibilità che per la prima volta gli arrideva di far sua quella divina creatura sarebbe stato meglio andare subito a casa pensò egli e poi mettermi a lavorare mi sarà ispirato ma fatto appena quel ragionamento trovò che era sbagliato di pianta no soggiunse egli bisogna anzitutto aver meritato di vederla se mi viene fatto un bel partito sarà segno che l'avrò meritato così dicendo si avanzò verso l'orlo dell'impalcatura e volse un'occhiata a quel punto della navata in cui per la prima volta aveva veduto Madonna Fiordalisa gittò un bacio laggiù sulla punta delle dita e col bacio una ardente preghiera una giaculatoria mentale era la prima di sicuro che facesse nella casa di Dio il giuoco di scendere anziché di salire quindi invasato dall'estro si pose al lavoro con ansia quasi febbrile l'idea e la forma gli escivano insieme nello stesso tocco dal disegnatoio che scorreva veloce sulla carta Spinello immaginò il santo nell'atto in cui muovendo incontro al serpente lo fulmina col gesto della mano destra levata in alto mentre con l'altra sembra infonder coraggio ad una turba di cittadini spaventati quali già volti in fuga quali inginocchiati per invocare il soccorso del cielo il santo si vedeva ritto in aria di persona commossa ma non vinta da timore e la fralezza delle membra e la soavità dell'aspetto in quella che facevano contrapposto all'orrida fierezza del mostro sembravano raffigurare l'alto concetto della retta coscienza che sta salda innanzi ai maggiori pericoli o della fede in dio che vince animosa ogni ostacolo il serpente nella forma delle zampe delle fauci o delle scaglie ond'era protetto il suo dorso arieggiava i coccodrilli egiziani nelle ali i favolosi dragoni che erano tanto in voga a quei tempi per la leggenda popolare di San Giorgio di Cappadocia la mala bestia guardava tuttavia il suo poco temibile avversario e con le fauci aperte pareva volesse ingoiarlo ma già il corpo si piegava gli anelli del ventre si contorcevano le zampe spaventosamente unghiate si stendevano nello spasimo e graffiavano l'aria era alcunché di terribile a contrasto col tranquillo atteggiamento dell'uomo miracoloso dalla cui mano levata intendevate essersi allora allora sprigionata la virtù fulminatrice ah finalmente gridò Spinello appena gittati sulla carta i contorni della sua composizione non lo cancelleremo questo quadro non lo cancelleremo poco stante data l'ultima mano al disegno ne fece un rotolo e discese dal ponte così tardi escite dal lavoro gli chiese il sagrestano del duomo vedendolo attraversare la navata di mezzo ma che c'è avete l'aria di un uomo che ha ricevuto una lieta novella lieta sicuramente rispose il giovane pittore quantunque a voi forse non parrebbe tale se potrò rallegrarmene per voi perché non mi parrà lieta ditela su Spinello si avvicinò al prete accostò le labbra alla guancia di lui e gli bisbigliò all'orecchio prendo moglie il sagrestano si trasse indietro per guardare in volto Spinello e indibatte le labbra come un uomo che si aspettasse tutt'altro e che ad ogni modo non vedesse una grande felicità nel settimo sacramento prendete moglie Spinello esclamò siate felice peraltro avrei creduto che per voi la moglie dell'artista dovesse essere qui e col dito accennava la testa dove abita Madonna Fantasia no vi ingannate rispose prontamente Spinello la moglie dell'artista è qui ed accennò il cuore dove sta di casa la passione avrete ragione disse il sagrestano inchinandosi purché non si soffra lì dentro nel qual caso addio arte Spinello pensò che il povero prete non era fatto per intendere certe cose e datagli una di quelle occhiate patetiche le quali sembrano dire tante cose forse perché non ne dicono alcuna infilò la porta del duomo affrettava il passo perché quel giorno era invitato a desinare dal maestro e l'ora come si è detto era tarda fra pochi istanti avrebbe veduta Madonna Fiordalisa ma come avrebbe osato posare gli occhi su lei dopo quel doloroso discorso di Mastro Jacopo fortunatamente dalla tranquilla accoglienza che Fiordalisa fece al futuro a pelle gli fu agevole intendere che Mastro Jacopo non aveva creduto opportuno di dir nulla alla sua bella figliuola e Spinello gliene fu grato perché libero da ogni soggezione avrebbe potuto guardare in volto Fiordalisa contemplarla a sua posta e pensare tra sé con gioia infantile tu non sai bambina tu non sai quel che so io sarai mia bella creatura sarai mia il pegno della vittoria è là in quel rotolo di carta che io ho riposto su quel canterano di noce Mastro Jacopo prima di mettersi a tavola tirò in disparte il prediletto di Scepolo e gli disse or bene t'è venuta l'idea? sì maestro è venuta e ne sei contento? Spinello fece un cenno del capo che voleva dire così così ma le sue labbra si atteggiavano ad un malizioso sorriso ah breccone esclamò il vecchio pittore tu sei contento e non vuoi confessarlo fammi vedere il disegno no maestro non ora se permettete sarà per domani non sono ancora ben sicuro del mio concetto nell'ebbrezza del comporre mi è apparso bello ma ora pensando alla grandezza del premio e così dicendo Spinello volgeva gli occhi a Fiordalisa il cui elegante profilo si disegnava sul fondo luminoso della mensa apparecchiata ho una gran paura di aver fatto un pasticcio aspettate domani intanto ci dormirò su e poi vedrò di ritoccarlo sia come vuoi tu disse Mastro Jacopo andiamo a tavola io non mi nutro con gli occhi come te ed ho una fame assai tata la mattina seguente Spinello ritornò sull'opera sua gli pareva manchevole e certamente era come tutte le cose tirate giù in fretta ma delle cose fatte in fretta aveva anche i pregi cioè a dire insieme con qualche ridondanza facilmente correggibile unità di concetto e franchezza di esecuzione rimutò qualche parte rifece il disegno accrebbe con alcuni tocchi l'espressione dei volti e finalmente come gli parve di aver migliorato il suo lavoro si arrischiò a metterlo sotto gli occhi del maestro tremava il povero Spinello tremava vedendo il vecchio pittore atteggiato a giudice davanti al suo disegno e raccolto in un silenzio che non gli prometteva niente di buono Mastro Jacopo guardava sempre così la sua attenzione era concentrata nel soggetto non si perdeva mai in esclamazioni o in arcamenti di ciglia quando aveva considerato per ogni verso ciò che doveva giudicare meditato vagliato pesato tutto sulle bilance dell'orafo allora soltanto si lasciava sfuggire un bene o un male secondo che gli pareva ma niente di più quella volta peraltro si mostrò più corrivo bene disse egli dopo una lunga disamina sono contento di te la composizione è saviamente immaginata l'atteggiamento del santo è sobrio e dice molto se ti riesce sul muro quell'aria di testa che ti è riuscita sulla carta hai vinto per mia fede un gran punto spinello fuori di sé dalla gioia buttò le braccia al collo del maestro via via ripigliò il vecchio pittore schermendosi male da quella dimostrazione d'affetto non son mica fiordalisa padre mio perdonate gridò spinello sono tanto felice la vostra loda è per me il più grande il più ambito dei premi sì dopo la mano di fiordalisa borbottò mastro Jacopo ma già si capisce ed io non mi lagno del resto la loda del babbo e la mano della figlia non son tutta roba di casa mia spinello chiese licenza al maestro di poter cominciare quel medesimo giorno a far la macchia per ottenere una giusta intonazione di tinte la mattina seguente mise mano al cartone aveva misurato lo spazio su cui doveva essere dipinta la storia del santo e fatto il conto dei fogli di carta che gli bisognavano per quel tratto di muro non gli restava che di congiungerli ad uno ad uno per gli orli con la colla di farina cotta al fuoco ciò fatto e come il cartone fu rasciugato sulle giunture lo stese al muro incollandolo sui lembi indi tirate sul suo primo disegno tante righe orizzontali e perpendicolari che lo riducessero ad una fitta rete segnò lo stesso numero di linee sul cartone a distanze proporzionalmente uguali affinché gli fosse facile di condurre il suo primo disegno alla misura dell'affresco che aveva immaginato di fare spinello lavorava per quattro e al paragone suo anche luca giordano soprannominato luca fa presto avrebbe potuto andarsi a riporre finito il suo graticolato mise un pezzo di carbone in capo ad una canna e là ritto davanti al muro con un occhio al disegno primitivo e l'altro al cartone incominciò a riportare su questo i contorni dell'altro due giorni dopo il cartone del miracolo di san donato era fatto con grande soddisfazione di mastro jacopo il quale per tutto quel tempo non aveva voluto nessuno dei suoi giovani in chiesa già a che cosa gli sarebbero serviti quei lasagnoni a mesticargli i colori mastro jacopo per quei due giorni mesticò i suoi colori da sé come avrebbe fatto ogni artista novellino tanto è vero che ognuno purché voglia può passarsi dell'opera ad un altro sia egli servitore o d'aiuto per contro il vecchio pittore aveva anche dato una mano al suo prediletto scolaro facendogli costruire il ponte nella cappella in cui doveva dipingere e come il cartone fu condotto a termine chiamò i muratori perché dessero un'arricciatura grossa sul muro debitamente scrostato indi fece incrostare di nuovo tanta superficie di muro quanta spinello credeva di poterne colorire in un giorno spianato per benino l'intonaco il giovine artista vi stese il cartone e calcò su quello il disegno della sua composizione per avere i contorni precisamente tracciati indi prese a mettere il colore come gli era dato dal bozzetto che aveva preparato in anticipazione il giorno in cui spinello aveva incominciato a dipingere mastro Jacopo sceso dal suo ponte verso l'ora di vespro andò sul ponte dello scolaro a vedere come se la fosse cavata bene per Diana gli disse vedendo già dipinta tutta la figura del santo e con un'aria di testa che meglio non si sarebbe potuta desiderare per questa volta sono io che abbraccio te immaginate l'allegrezza di spinello io rinunzio ad escriverla mastro Jacopo ripigliò per far bene è dunque mestieri d'essere innamorati ahimè ragazzo mio a questo patto io non farò più nulla di buono poiché la stagione degli amori è passata quel medesimo giorno escito di chiesa un'ora prima del solito mastro Jacopo passò da Luca Spinelli per fargli un certo discorso che ricolmò di contentezza il paterno cuore del vecchio fiorentino indi arrivato a casa prese la sua fiordalisa in disparte e senza tanti preamboli le disse sai ho deliberato di maritarti fiordalisa si fece rossa ma non tremò aveva indovinato e accolse l'annunzio del padre con un eloquente silenzio eloquente per noi che sappiamo tutto non per Jacopo di Casentino che non sapeva nulla dell'animo di sua figlia or bene disse egli dopo un istante di pausa così ricevi la mia notizia padre mio balbettò fiordalisa chinando la fronte quello che voi farete sarà ben fatto sì questo va bene ripigliò mastro Jacopo che aveva voglia di ridere ma se per avventura si trattasse di uno che non ti andasse ai versi fiordalisa chinò la fronte un po' più che non avesse fatto prima e si pose a tormentare con le dita ai lembi del suo grembiule veniamo alle corte poiché tu stai zitta e non rispondi continuò mastro Jacopo che penseresti tu di spinello o spinelli fiordalisa ebbe una scossa al cuore ma una scossa piacevole oltre ogni dire arrossì da capo e con un fil di voce così rispose a suo padre quello che voi farete sarà ben fatto conosco già il ritornello rispose mastro Jacopo dando un buffetto sulla guancia di sua figlia e sia dunque ben fatto poiché questa è la tua opinione come era da un pezzo la mia su il viso bambina e preparati a ricevere il tuo fidanzato mi par di sentire il suo passo per le scale fiordalisa che non aveva ancora avuto tempo a riprendere il suo color naturale aggiunse vermiglio a vermiglio quando si vide dinanzi spinello questi non sapeva ancora nulla dei discorsi fatti tra mastro Jacopo e suo padre né dell'annunzio che il vecchio pittore aveva dato alla figlia ma quella scena muta e il rossore di madonna gliene dissero abbastanza per farlo rimanere sconcertato davanti a lei come ella era turbata davanti a lui e così non vi dite nulla gridò mastro Jacopo perché mi state lì grulli e confusi vedi un po' fiordalisa eccolo lì l'uomo che non ardisce mai ci scommetto che con la sua paura di non venire a capo di nulla non ha neanche creduto di ricordarsi che ci voleva un anello oh questo poi esclamò spinello toccato sul vivo e posta la mano al borsellino che gli pendeva dalla cintola ne trasse un cerchietto d'oro indi si accostò alla fanciulla e prese la sua mano tremante e le disse madonna non so se sarà abbastanza piccolo per il vostro ditino d'angela ma se voi non lo sgradite madonna non rispose né sì né no si era lasciata prendere la mano si lasciò mettere in dito l'anello il giovine innamorato cadde in ginocchio e baciò la mano della sua fidanzata indi rialzato si le si accostò peritoso e guardandola con gli occhi ardenti d'amore le bisbigliò all'orecchio son più felice di un re mastro Jacopo si era allontanato per non farci la figura del terzo incomodo le confidenti espansioni di due cuori innamorati non vogliono testimoni neanche quando essi siano gli autori della vostra felicità era già l'ora di cena ma Jacopo di Casentino non parlava ancora di mettersi a tavola il vecchio pittore aspettava qualche d'uno poco stante si udì un rumore di passi nella camera antigua e Tuccio di Credi apparve sulla soglia il povero Tuccio aveva per solito una faccia rabbuiata ma quel giorno aveva senz'altro una cera da funerale maestro dissegli è qui messer Luca Spinelli ah bene fallo entrare gridò mastro Jacopo ragazzi miei prima di tornare a casa ero passato da Luca Spinelli mio ottimo amico e lo avevo pregato di volere essere dei nostri in questo giorno così lieto per voi i due babbi debbono essere uniti non vi pare peccato soggiunse mentalmente reprimendo un sospiro che non ci siano le mamme Tuccio di Credi che precedeva di pochi passi il nuovo venuto si tirò da un lato per lasciarlo passare il vecchio Fiorentino entrò strinse la mano che gli offriva il pittore e andò a baciare in fronte la sua futura nuora se aveste veduto in quel punto il povero Tuccio di Credi il ser Luca disse Jacopo di Casentino quello d'oggi non è un invito in pompa magna si faranno quattro chiacchiere tra noi mentre i nostri ragazzi ne faranno mille tra loro senza dar retta alle nostre ma questi sponsali vogliono essere celebrati con una festa di famiglia che faremo domenica se vi piace Tuccio di Credi avvertirà intanto i suoi compagni di bottega i quali saranno padroni di spargere la notizia ai quattro punti cardinali Tuccio di Credi rispose con un cenno da sentimento a quell'ultima parte del discorso di Mastro Jacopo mi congratulo con voi maestro disse egli e mi congratulo con gli sposi quando si faranno le nozze tra due mesi rispose Mastro Jacopo quando il vostro compagno avrà condotto a termine un'opera testè incominciata nel Duomo Vecchio desidero che impariate da ciò ragazzi desidero che impariate a lavorare di buona voglia spinello Spinelli è l'ultimo venuto ed eccolo già molto innanzi a tutti voi non ve l'abbiate per male perché dovremmo avercelo a male chiese Tuccio di Credi stringendosi nelle spalle con aria di profonda non curanza chieda più degli altri a ragione di stimarsi fortunato a noi basterà che voi non ci togliate la vostra benevolenza avete andate là rispose Mastro Jacopo col suo piglio tra il burbero e il faceto sebbene qualche volta mi facciate disperare da quei ragazzacci che siete a domenica dunque e preparate le vostre più belle canzoni si starà allegri Tuccio di Credi salutò gli astanti e se ne andò verso l'uscio quel giorno Tuccio di Credi era rimasto l'ultimo in bottega e a lui era toccato di ricevere Luca Spinelli venuto a quell'ora insolita e con aria misteriosa a cercare Mastro Jacopo a lui proprio a lui era toccato di aver le primizie di quell'annunzio matrimoniale altrettanto doloroso quanto inaspettato Tuccio di Credi non sapeva che pensare non sapeva che dire aveva perduta la testa poco mancò che dimenticasse perfino di chiudere la bottega escito di là andò macchinalmente per le vie d'Arezzo fino all'osteria del Greco dove c'era la combibbia serale dei garzoni di Mastro Jacopo aveva una faccia così scura che i suoi compagni lasciarono tosto di ridere per domandargli se si sentisse male vuoi un confortino un cordiale un lattovaro gli disse il chiacchiera prendi questo è Montepulciano è il Greco giura di non averlo annacquato Tuccio di Credi ricusò brevemente col gesto il bicchiere che gli offriva il chiacchiera sapete la novella disse egli quale novella chiese Cristofano Granacci se non la spifferi come possiamo saperla soggiunse il chiacchiera Tuccio di Credi rimase un momento sopra di sé come se volesse raccogliere le proprie forze indi con voce sepolcrale diede il triste annunzio ai compagni Spinello Spinelli l'ultimo venuto a bottega sposa la figlia di Mastro Jacopo un grido di meraviglia accolse le parole di Tuccio come lo sai domandò il chiacchiera lo so da Mastro Jacopo che ci invita per domenica alla festa degli sponsali e ci raccomanda di preparare le nostre più belle canzoni oh le avrà disse il chiacchiera ti assicuro io che le avrà un così bel matrimonio ci vorranno anche i giullari già osservò tranquillamente parri della quercia dovevamo immaginarcelo immaginarcelo e perché disse Tuccio di Credi perché era facile discorgere che Mastro Jacopo vedeva assai di buon occhio Spinello Spinelli come scolaro non nego ribatté Tuccio di Credi Mastro Jacopo ha le sue debolezze come le ha avute Sant'Antonio ma neanche Sant'Antonio ha portato il suo protetto in paradiso e non era da immaginare che Mastro Jacopo dovesse dare sua figlia a Spinello Spinelli sapete che già gliel'avevano domandata parecchi tra gli altri il buon talenti che è un ricco sfondato è vero disse Parri della Quercia ma tu ricorderai per qual ragione Mastro Jacopo non gliel'ha voluta dare egli ha sempre detto che la sua fiordalisa avrebbe sposato uno dell'arte sua Spinello Spinelli è un pittore dunque ad agio biagio entrò a dire chiacchiera Spinello Spinelli è un Mastro in bratta finora un fattore come noi altri e non può neanche misurarsi con te Parri della Quercia che hai già fatto un trittico a tempera e n'hai avuto lode dagli intendenti Parri della Quercia sorrise e ringraziò con un cenno del capo ma infine dissegli di rimando se non ha anche dipinto a tempera non si può tuttavia bollarlo col titolo di Mastro in bratta rammentate i suoi tocchi in penna ah sì bella forza gridò il chiacchiera come se quella fosse arte il pittore sa vederlo sulla tavola o sul muro soggiunse Parri Spinello Spinelli può dirsi oramai un frescante Mastro Jacopo gli ha dato a fare qualche cosa sulle sue ultime composizioni sì gli ha dato da calcare i suoi cartoni sul muro e da mettere il colore sui fondi ahimè dell'altro ancora dell'altro entrò a dire Tuccio di Credi dell'altro che cosa gli ha dato da dipingere un'intera medaglia nel Duomo Vecchio mi capite un'intera medaglia e Spinello ha ideata lui la composizione ha fatto lui il cartone tutto lui ma non potrebbe anche darsi che il maestro avesse ritoccato il disegno data l'intonazione del bozzetto e via via non c'è dubbio esclamò i chiacchiera e forse anche avrà ideata la composizione è possibile ripigliò Tuccio di Credi tutto si può credere perché il lavoro si fa in Duomo sulle impalcature dove il maestro non ha più voluto vedere nessuno di noi gatta cicova sentenziò Cristofano Granacci intanto eccolo pittore e che lavoro è quello che fa il sornione un sandonato che ammazza il serpente con una benedizione rispose Tuccio di Credi tu l'hai veduto io no l'ho risaputo dallo scaccino della chiesa ma su questo non ho a dirvi di più soggiunse Tuccio già quasi pentito di aver toccato quel tasto ma gli altri non avevano bisogno di più estesi particolari e non ci badarono neanche erano su tutte le furie e non ci vedevano lume ah è troppo gridò Lippo del calzaiolo mastro Jacopo ci ha i suoi beniamini se avesse adoperato ugualmente con noi se ci avesse consigliati aiutati messi avanti saremmo pittori anche noi bella forza fare il lavoro d'uno scolaro e poi gabellarlo per pittore e non si facceglia pittore frescante purché i massari del Duomo gli lasciano passare la burletta che cosa ha da importarne ai massari disse Tuccio di Credi se l'opera piacerà non andranno a cercare cinque piedi al montone e noi lasagnoni noi buoni a nulla gridò Cristofano Granacci ah caro e riverito mio mastro Jacopo di Casentino dite che non son più io se non vi pianto lì su due piedi o su quanti vorresti piantarlo domandò il chiacchiera che non rinunciava mai all'occasione di metter fuori una celia dico che a me ne vado urlò il Granacci posso allogarmi a Firenze dal giottino o a Siena dal Berna che tutte e due mi vogliono perché fare quello che tu non farai Tuccio seppure tu campassi mill'anni ribatte il Granacci via non ci guastiamo il sangue entrò a dire lippo del calzaiolo Cristofano ha ragione ed io seguirò il suo esempio me ne andrò a bottega da agnolo cadde in Firenze tanto qui non si impara nulla è vero questo notò il chiacchiera mastro Jacopo all'aria di tenerci per misericordia come si tengono gli infermi all'ospedale non c'è che Spinello in Arezzo e a lui concede anche la mano di sua figlia questa poi è grossa di che diamine si è innamorato forse del ritratto che Spinello ha inteso di fare a Madonna Fiordalisa osservò Lippo del calzaiolo almeno sapesse farli i ritratti esclamò il Granacci i quattro segni d'un tocco in penna a me mi servono poco in un'opera grande voglio vederlo lo vedrete nel San Donato disse Parri della Quercia ma se non è suo rispose il Granacci lo vogliamo giudicare da un'opera fatta da lui sotto i nostri occhi non già in un affresco di mastro Jacopo gabellato per suo chi dice che non sia suo chiese timidamente Parri della Quercia non ha inteso lo dice Tuccio di Credi a adagio Cristofano io non ho detto nulla si affrettò a rispondere Tuccio di Credi almeno non ho fatto che accennare un sospetto anzi la possibilità ad un sospetto ma se mi domandate che cosa ne penso vi dirò che io non sospetto nulla e credo che Spinelli darà tutta farina del suo sacco è un gran pittore che nasce di schianto nasca a sua posta e facciamola finita parliamo d'altro anzi non parliamo di nulla poc'anzi volevate darmi un confortino un lattovaro un cordiale ho più fame che sete e prenderei qualche cosa di sodo fine del capitolo terzo non parliamo di nulla